Ho chiuso il passaggio perché venivano di notte a rubare, venivano di notte a nuotare. Pesca e tuffi notturni nel lago Le Bandie di Spresiano, episodi che hanno spinto Remo Mosole a prendere la decisione di chiudere il cancelletto d'accesso quando cala il buio. Una scelta obbligata per evitare possibili incidenti anche dal tragico epilogo. È un pericolo pubblico perché l'acqua a 15 gradi di notte si può prendere un grampo, cosa come, e quando succede l'incidente va bene che è zona turistica alberghiera, ma è sempre un poco piacevole quando succede qualcosa di brutto, perché dopo la colpa la vanno a cercare gli altri. Un'area molto frequentata, soprattutto da sportivi, ma anche da famiglie. Quello è fatto per camminare, per passare tempo, per bere qualcosa insieme, per chiacchierare, per contarsi le storie, soprattutto quando ci sono tante caroselle in giro con i bambini, cosa come, per me sono ancora più felici. Un'oasi di pace che tale deve rimanere, dice Gran Voce Mosole, che lancia un appello a chi frequenta l'ex cava. Non createmi problemi con la sporchigia che portate da casa, perché io la devo raccogliere e sono stufo a raccogliere la roba degli altri. Come trovate? Lassatelo, lasciatelo come l'avete visto.